Sì, salta fuori. Sì, salta fuori. Sì, salta fuori. Perfetta, perfetta. Non capisco perché ci sia così tanta gente nel decesso. Ok, non ridere. Beh, un attimo adesso. Sei un po' professionista o no? Non sia così facile. Sì, salta fuori. Sì, salta fuori. Sì, salta fuori. Guardate che cerco una pagina interessante. Faccio fare che non vuoi? No, ti prego, non sta così. Così è successivo. Non so, resisti dai 5 secondi. Copriti i coglioni. Cos'è? Con il giornale. Un uomo distrutto. Se io avvicino la rotonda lì. Se non la rotonda lì. Se non la fresco. Che incredibile. Dovresti in mente quella barba. Col barbone lì. Ma a te cresce poco o non cresce proprio? Mi crescono i peli? Quante volte te l'ho detto da ieri? Palla più farmi giusto? No, dai! Che hai le vasette pelose. Hai visto? E li tengo, sono tre peli lunghi. E si sono arrezzati. Con l'azzurro ultimo. Prova a rimettertelo. Esatto. Ho 30 anni che vanno in Italia. Allora cosa vuoi dire? Ma con che professionista state lavorate? Saudazio. Meno male che non ci avevo recitato. No, così no. Hai sempre stato così. I piedi sono giusti così. Sono bellissimi. Hai dei bellissimi piedi. Ma hai bellissimo tutto. Comunque stavamo parlando della tua non barba. No, stavo ancora pensando alla barba. Palla cosa vuoi fare? Vuoi rimanere lì? Vuoi fare l'animale domestico? Sì, è bello. Sì, è bello. Sì, è bello. Sì, è bello. Ma f***a. Tristezza. Tristezza. Barba. Con le piante, con le commiserazioni. Stop. Bellissima, ne facciamo un'altra. Sì, è bello. Buono, dai. Stop. Tristezza estrema. E anche dolori muscolari. Hai ritirato i muscoli. Hai fatto un incidente ieri sera. Sì, è bello. Sì, è bello. Bellissima, ne facciamo un'altra. Numero 18. Sì, è bello. Non c'è nemmeno. E uno cerca di lavorare. Seriamente. Per guadagnarsi da vivere. Sì, è vero. Fa sempre abbastanza freddo, ragazzi, i video. Poi continuano ad aprire più della porta. Dai. Ecco Garrison di nuovo. E' il Garrison che è in te che... Adesso Bada... Mi chieda con noi. E no, no, no. E Bada non passa due. Io non capire cosa... Io non capisce. Giù il giornale. Sarebbe che ti è overdose o ti sparano? Mamma, mamma, che bella, ragazzini. Eh, così sento... Se garete a vedere, vedo mamma così. Che bel ciccio, eh. Facciamo il posto. Mi sta mordendo, io ve lo dico. Fino a un commento alla camera, un commento alla camera. Stasera... La marghe. Perfetto! 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 Chiomitatore! Partito... E... azione! Finetti non rida! Dai dai! Non hai la barba! Non hai la barba! Non hai la barba! Non ci fai sentire a piangere se non hai la barba! Vai! F*** boia di s*** Aspetta, aspetta era carino Vai 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 Bilbao Per la sua verità Va bene Ecco La novità Forse la verità Ok adesso non dirlo più Stai fermo Buoca chiusa E vai con il sorriso Non riesco a sorridere ragazzi Scusate Questo potrebbe essere un sorriso Ma aspetta Non riuscirò mai a farlo Non mi è venuto bene Non ce la faccio Non ce la faccio Ma dai Stavo pensando alla c***a ma Infatti non va bene Vai No si è girato a riso subito Ma dov'era la bottiglia È caduta lì No ti sei girato a ridere È la sinistra Si è aperto il tappo Adios 3 2 1 Vai Che bella quella di prima No ti sei girato a riso subito No ti sei girato a riso subito Che bella No ti sei girato a riso subito Grazie.